Ciao a tutti! Oggi parliamo di professioni. Tu che lavoro fai? Sono cuoco. Sono guacca. Sono doctora. Sono dottori-san. Sono musicista. Sono musicista. Sono sattu. Sono sattu. Sono farmacista. Sono farmacista. Sono studentessa. Sono giardiniere. Sono giardiniere. Sono giardiniere. Sono ingegnera. E, D, C. Noi, A, 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 B, 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 C, 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 C. Sono insegnanti. D, A, T, H, E, R, non R. R, teacher. Sono insegnanti. Da, T. dzy personeuto, quando mi piaceva a tutti i colori, come andiamo lo conoscete sanitario. Grazie a tutti.